E' entrato nel vivo il premio nazionale Paolo Borsellino che per la prima volta si sviluppa in gran parte all'Aquila dove si svolgono ben 14 dei 42 incontri in programma durante l'anno. Obiettivo diffondere la cultura della legalità tra i giovani. Gli appuntamenti in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale hanno come interlocutori infatti gli studenti. La banalità della mafia, l'educazione civica raccontata ai ragazzi è il libro presentato oggi da Catello Maresca, magistrato che ha operato nella direzione distrettuale antimafia, già sostituto procuratore presso la procura generale di Napoli. Il magistrato è stato protagonista delle principali inchieste contro la mafia casalese ed è docente di procedure di contrasto alla criminalità organizzata presso l'Università degli Studi della Campania. Proviamo a stimolare i ragazzi a riflettere criticamente sui rischi delle mafie, dell'infiltrazione mafiosa partendo dalle basi, cioè dal rispetto delle regole, dalla legalità, una legalità però fatta di esperienza maturata sul campo, di lotta ai fenomeni criminali che sono anche particolarmente subdoli e complessi e che si presentano in queste realtà sane anche attraverso il riciclaggio, attraverso l'infiltrazione nelle attività economiche. Bisogna stare attenti, bisogna sviluppare tutti quanti insieme gli anticorpi che sono necessari per combattere questo male. Con il sindaco Biondi e il procuratore David Mancini si è parlato anche delle scorte, i ragazzi avevano visto in precedenza anche il docufilm La Scorta. Per il sindaco Biondi l'Aquila è stata brava a resistere a tutti i tentativi di infiltrazione. Noi teniamo molto a far percepire soprattutto alle giovani generazioni l'importanza della legalità e della lotta a qualsiasi tipo di mafia. Da questo punto di vista l'Aquila è una città tranquilla, non conosce fenomeni particolari però la prevenzione è importante e soprattutto siccome questa è diventata una città d'incontro in cui vengono tante persone, immaginare che i nostri giovani a colloquio, a confronto con altri coetanei di altre realtà possano diffondere questo principio e questo messaggio migliora ulteriormente il grado di civiltà di questo territorio che ha saputo resistere anche alle infiltrazioni nel momento più crudo quando i soldi della ricostruzione hanno iniziato a circolare, erano tante e le regole non erano stringenti come quelle di oggi.